Bene ragazzi, in questa seconda parte di questa masterclass faremo, come vi dicevo, esercizi un po' più dinamici. Iniziamo con l'utilizzare la sedia. Ok? Allora, benissimo, ci mettiamo seduti in questo modo, sempre con la canonica posizione in avanti, seduti sulla parte anteriore della seduta, le mani sono al collo e alla testa, l'angolo del ginocchio è leggermente aperto, quindi i piedi si spostano un po' più avanti, ma senza comunque staccare i piedi da terra, inizieremo a fare movimenti verso il basso e ritorno con la schiena dritta, va bene? Utilizzando quindi questa dinamica di movimento. Uno, raddrizza la schiena, due, raddrizza la schiena, tre, raddrizza la schiena, quattro, e su, via, cinque, su, via, sei, su, via, via, sette, su, via, otto, su, via, nove, su, via, dieci, su, e stop. Recuperiamo alcuni secondi, dopodiché ne facciamo un'altra serie da dieci, ok? Da dieci ripetizioni, quindi mi raccomando, sempre attenzione al movimento in avanti e quindi indietro, controllando comunque la posizione della colonna, va bene? Pronti? Attenti, via di nuovo. Uno, e su, due, su, tre, su, su, quattro, su, cinque, su, sei, su, sette, su, otto, su, nove, su, dieci, e stop. Benissimo. Rimanendo sempre in posizione seduta, mi giro verso di voi per mostrarvi meglio l'intercizio. Allora, ma questa volta avremo un po' meno aperto l'angolo del ginocchio, quindi staremo più vicini con i talloni alla sedia. La posizione di partenza è quella di prima, però l'idea è di avvicinare il gomito al ginocchio opposto e ritorno. Bene, chiaramente ognuno di voi cercherà la dinamica di movimento che si confà le proprie capacità fisiche, quindi attenzione a non cercare necessariamente questo contatto tra ginocchio e gomito opposti, ok? Se non riuscite ad arrivare. Come riuscite? Alterneremo la dinamica di esecuzione tra una combinazione di un emilato sull'altro. Allora, siamo pronti? Attenti, via. Uno, due, tre, quattro, cinque, due, sei, sette, otto, nove, dieci e stop. Se volete riposate un attimo le braccia mettendo la posizione delle mani sulla coscia, ok? Bene. A questo punto aspettiamo qualche secondo, ci muoviamo un po' con le spalle, con la colonna e via che riprendiamo, mani dietro e via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bravissimi, 8, 9 e 10 e mi fermo. Bene ragazzi, che ne dite? Ne facciamo un'altra serie di ripetizioni? Dai, ci sta anche questa, ok? Chiaramente a secondo di come vi sentite. Se volete recuperare potete anche saltare questa ripetizione opzionale, va bene? Questa serie di ripetizioni. Siamo pronti? Dai, andiamo con la terza e via. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Bravissimi, perfetto ragazzi. Ok? Allora, ora avviciniamo i talloni alla sedia e su. Lasciamo la sedia e prendiamo il bastone. Ok? Allora ragazzi, ci mettiamo in una buona posizione di stabilità con i piedi, quindi poco più del bacino, la larghezza tra i piedi senza esagerare. E mettiamo le mani, ok? Afferriamo con le mani il bastone in questo modo. non siate troppo larghi, quindi il braccio deve essere tangente al tronco. E da questa posizione iniziamo via. Uno, due, tre, quattro, vai ragazzi. Cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Giù. Pronti? Lo ripetiamo di nuovo. Bene. Sempre ginocchia anche un po' piegate, ok? Senza stare troppo rigidi con la colonna e con gli arti. Bene. Scarichiamo il peso a terra con le ginocchia flesse leggermente e via. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. E stop. Bene. Allora ragazzi, come prima, ok? Cerchiamo di fare una serie in più di dieci ripetizioni. Dai, ci proviamo insieme, eh? Ok? Quindi sempre ginocchia un po' flesse. Pronti? Via in azione. Uno, due, bravi, tre, grandioso, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Stop. Benissimo. Adesso ragazzi faremo un altro esercizio con il bastone. È un esercizio piuttosto impegnativo, eh? Se lo si sviluppa in termini massimali di sviluppo di forza. Però chiaramente noi lo faremo in modo tale che sia funzionale per tonificarci e non per sovraccaricarci. Quindi mi raccomando, abbiate la percezione durante l'esecuzione di questo esercizio di non essere alla massima contrazione. Ok? Nelle lezioni precedenti vi avevo detto che dovete pensare come se noi modulassimo il volume della radio. Ok? In un volume che va da zero a dieci abbiamo una manopola dove zero è lo sforzo che non faccio. Dieci è lo sforzo massimo. Bene. Noi dovremmo sviluppare progressivamente uno sforzo che arriva a sei. Va bene? Quindi poco più della metà del mio massimo possibile in termini di massima contrazione volontaria. D'accordo? Ci proviamo. Allora innanzitutto mettete il bastone davanti a voi, sempre con una buona posizione sulla base d'appoggio, quindi sui piedi, leggermente più larga rispetto al bacino, una mano sopra, una sotto e da questa posizione inizio a spingere giù il bastone come se lo volessi piantare a terra. D'accordo? Il gomito è piegato sia a destra che a sinistra, non ho le braccia, i gomiti distesi. Siete pronti? Via 1, volume dell'intensità della spinta 2, volume a 3 un po' più alto, spingo di più, 4 un po' di più, 5 un po' di più, siamo a 6 poco più della metà e lentamente rilasciamo il volume di intensità fino ad annullarlo. Perfetto. Ragazzi, di nuovo, siete pronti? Pronti, attenti, via, inizio a spingere, 1, 2, 3, 4, sono alla metà della mia forza massima volontaria, sono a poco di più, mantengo qualche secondo e lentamente rilascio la spinta verso il basso del bastone fino ad annullarla completamente. Bene, ancora ragazzi, siamo pronti? Via, piano piano, progressivamente spingo 1, spingo 2, spingo 3, spingo 4, spingo 5, spingo 6, e mantengo qualche secondo la spinta in basso del bastone e lentamente lascio piano la spinta fino ad annullarla completamente. Bene, ragazzi, ancora due volte, dai, coraggio! Pronti? Via, lentamente inizio a premere lieve, poi un po' di più, leggero, moderata la spinta, arrivo a metà della mia massima forza che posso esprimere, un po' di più della metà, mantengo qualche secondo la spinta e leggermente, piano piano, rilascio, piano, piano, piano la spinta fino ad annullarla. Allora, l'ultima volta, siete pronti? Allora, vai ragazzi, di nuovo, inizia a spingere piano giù, un po' di più, è leggera, bene, aumenta un po', sono a 4 vicino alla metà, sono a 5 a metà della contrazione, un pelarino di più rispetto alla metà e lentamente lascio la spinta annullandola progressivamente e stop.